Buongiorno, ben ritrovati a tutti, cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali del mattino. Allora, partiamo subito con il Santo, oggi in realtà la Chiesa Cattolica ricorda l'esaltazione della Santa Croce, c'è tutto un episodio storico, molto bello, che potrete leggere anche navigando o cercando su internet. Il sole è sorto alle 6.46 e tramonterà alle 19.21. Vediamo il tempo per oggi, il tempo per oggi è sereno su tutta la costa adriatica, l'unica possibilità di maltempo potrebbe essere con possibili locali brevi e rovesci solo sui settori montani, le temperature sono senza variazione di rilievo. Per la giornata di giovedì, cioè domani 15 di settembre, il tempo si guasta, vedete, sulle urbinate e nella parte sempre interna della regione Marche, temperature stazionari e un lieve aumento. Per giovedì la nuvolosità sarà diffusa anche su tutta la parte della costa e l'aumento della nuvolosità sarà nel corso del pomeriggio durante il resto della giornata. Poi vedete, venerdì il tempo è decisamente perturbato con precipitazioni diffuse che durante il giorno potranno assumere anche carattere di rovescio temporale e a fine giornata avremo tanta pioggia, anche localmente abbondante, quindi bisognerà tenere d'occhio questa giornata di venerdì 16 di settembre. Le temperature minime sono in lieve aumento, le massime senza variazione di rilievo. Allora, adesso andiamo a vedere invece i giornali. Ricominciamo dal resto del Carlino, vediamolo subito il resto del Carlino, eccolo qua. Purtroppo il Carlino apre con una notizia drammatica, la morte di un diciottenne, un giovane di Pergola che è uscita fuoristrada con altri quattro coetanei a bordo. Morire a 18 anni, questo è il titolo, ucciso dal guardrail, la fotografia di questo giovane di 18 anni che ha perso la vita in questo incidente stradale. Poi, sempre sul resto del Carlino, va a comprare una bicicletta usata e trova la sua appena rubata. Un'inchiesta dei carabinieri sul traffico delle due ruote, denunce per ricettazione. La vendita di banca Marche solo in zona Cesarini, parla il presidente Nicastro, e poi diventa padre poco dopo, però va in overdose. Il giovane è salvato dai passanti, lunedì pomeriggio, in pieno centro storico. E da Santa Veneranda, un gruppo di fedeli, di parrocchiani, dal vescovo Piero Coccia, non ci tolga, Don Michele, l'appello che hanno rivolto all'arcivescovo di Pesero. Tutte notizie che troveremo all'interno del quotidiano. Partiamo però dal sangue sulle strade. Eccola qua la notizia, purtroppo, della morte di questo diciottenne che è avvenuta un diciottenne pergolese, Marco Codolan, poi la corsa in ospedale a Fabriano, poco dopo le 22 di lunedì sera, però non è servito a salvare la vita a questo giovane. Intorno alle 10 di sera, lunedì, nessun altro veicolo è stato coinvolto. L'improvviso può darsi che ci sia stato l'improvviso attraversamento di un animale che potrebbe aver causato questa brusca frenata. Uno degli occupanti del mezzo è ricoverato in animazione, ma non è in pericolo di vita. Poi, purtroppo, si raccontano anche queste vicende, i giornali, così come si fa di solito, si va alla ricerca un po' di notizie, di ricordare anche queste persone che non ci sono più e si raccontano anche fatalità come quella che purtroppo è successa a questo giovane. Mamma stasera non esco e cucino per te. Poi c'è stato questo cambio di programma. La vittima aveva perso il padre da poco più di un anno a causa di una grave malattia, faceva lavori saltuari. Nato a Roma, era arrivato in Valcesano sei anni inserendosi. Perfettamente. Questa storia mi ricorda un po', e qui colgo l'occasione anche per, a proposito di incidenti stradali, a proposito di papà che muore subito e poi il figlio, insomma, mi ricorda Alex Tallevi, che proprio oggi è tornato alla casa del padre, come diremmo noi cristiani cattolici, è tornato a nuova vita. Un anno fa quell'incidente all'uscita di Ancona in auto, prima è morto il papà, poi Alex. Salutiamo Angela, la mamma, salutiamo tutta la famiglia, insomma, ancora nel ricordo di tanti. Andiamo avanti adesso con la rassiglia in stampa velocemente. I parrocchiani in delegazione dal vescovo, dall'arcivescovo Piero Coccia, lasci Don Michela Santa Veneranda, Monsignor Coccia non ci ha dato speranze, però siamo disposti a scrivere al Pontefice. Non è bella questa storia, però queste forzature, però registriamo quello che scrive il giornale, poi ognuno trarrà le sue conseguenze. Ci sono problemi familiari, riguarderebbero il parroco, ma l'arcivescovo sulla casa ci ha rassicurato. Accorpamenti e trasferimenti in arrivo hanno creato una reazione dei fedeli e questo di Don Michele è sicuramente il caso più ecclatante. Certo non sarà il primo, non sarà l'ultimo, però insomma le decisioni vanno rispettate. Siamo sulla pagina di Fano invece. Overdose, salvato in extremis, era diventato padre da poche ore il giovane soccorso dei passanti in piazza Marcolini, il 25enne era steso, lunedì pomeriggio a pochi metri dalla scuola, dalla Polloni. Invece un bracconiere, un 55enne fanese, è stato denunciato dalla forestale mentre cercava lepri e fagiani a camminate. Tra l'altro era caccia senza licenza e con il porto d'armi abusivo, per cui è stato immediatamente denunciato alla Procura della Repubblica. Teatro Romano ce l'ha svolta, ok, alla permuta con i privati. Trovato l'accordo dopo 15 anni di tira in molla dall'abbandono al recupero. Siamo sempre in centro, l'Università di Ancona sta ricostruendo virtualmente l'antica città augustea. Poi una sola scuola con l'antisismica, l'allarme dei grillini, totalmente impreparati a un'emergenza. Mentre Seri va ad Arquata del Tronto, a Fano si scatena la polemica. Il piano non è aggiornato, è quello del 2008, si parla di hotel, tra l'altro, chiusi da anni. E la storia che viene raccontata oggi in questo articolo di Alberto Berardi è che la terra ha tremato qui da noi già 20 volte. E poi altre notizie, come questa statua del Beato Sante, che è tornata, questa statua linea, che è Policroma, che nel 2012 era stata affidata alle cure dell'atelier del Restauro di Fano e che adesso è tornata appunto al Santuario del Beato Sante. Andiamo adesso sulle pagine del Corriere Adriatico. Questa è l'edizione di Pesaro. Santa Marta, l'istituto che ha subito dei danni l'anno scorso, adesso è stata ristrutturata. Tutti in classe, il Preside vuole più aule, il dirigente costretto a rinunciare a nuovi iscritti, appello a Comune e Provincia. Arriva la prima vittoria in Lega Pro del Fano, dei Granata, Gioielli, Gucci, Fano bello di notte, splendida tripletta dell'attaccante tramortito il forte Padova al Mancini. Il risultato, lo vedremo tra poco, comunque di 3 a 1. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Velocemente andiamo sulla pagina di Fano, del Corriere. Piano di emergenza non in regola, i 5 Stelle attaccano il programma datato 2008 e senza aggiornamenti rispetto alla normativa regionale del 2015. Mancano indicazioni primarie in caso di calamità. Protezione civile, chiesto a Fanesi il ritiro della delega. Non c'è un edificio per i soccorsi e risultano 70 letti negli hotel Elisabeth e Roma che sono chiusi ormai da tempo. Cioè un piano che in caso di emergenza va rivisto e questo è datato 2008. Se rivisita Arquate e ringrazia i volontari fanesi, a ottobre una delegazione del paese colpito dal sisma sarà ospitata nella città di Fano. incuria e potature inesistenti, San Lazzaro sempre ignorata, erba alta e rami degli alberi che avvolgono lampioni finestre, sono partite le segnalazioni dei residenti del quartiere. Pista ciclabile sempre a Fano su Viale Adriatico, chiamate la strada del turismo, investimento da 47 mila euro, corsia unica, più sicurezza. Anche l'Ido preme la carreggiata per i veicoli a motore resterà a senso unico e si ridurrà a tre metri e mezzo. Questa è la veduta panoramica di Viale Adriatico a Sassonia di Fano che è pronta ad accogliere la nuova pista ciclabile. E ancora, Fano fiorisce per una settimana e la festa conquista tutto il centro storico, cambia vestito e nome la storica e la segna stampa dei fiori, ci saranno più iniziative e diverse vie coinvolte. La pagina della Valle del Cesano una fusione tra Mondolfo e Monte Porzio e San Costanzo Bonaccorsi del PSI rilancia al sindaco il progetto di un matrimonio a tre. La tomba segreta stupisce ancora Piagge vuole farne un'attrazione complimenti e stupore dopo la riapertura ora la valorizzazione turistica l'apertura l'opera di restauro è durata quattro anni ed è stata finanziata dal Comune e dalla Regione Marche. La pagina di Senigallia invece gli istituti sono senza un soldo negli zaini pure la carta igienica da casa il pensiero del sindaco va ai terremotati lo studio è simbolo di rinascita queste sono le pagine di Fano e Valle del Cesano e Senigallia andiamo sulle pagine dello sport invece eccola qua Fano di lusso con Gucci tripletta dell'attaccante piegato il forte Padova al Mancini di Fano prima vittoria in campionato è un successo dal valore inestimabile in chiave salvezza inaspettato quanto meritato 3 a 1 dicevamo il risultato finale l'altra pagina è sempre del Corriere Adriatico è per l'allenatore Delfano Cusatis che sorride e parla di bella vittoria è una base di partenza l'allenatore dice 3 punti per far crescere di più l'autostima di tutta la squadra e di tutti i giocatori andiamo adesso invece a Fossombrone base pronta per l'eliambulanza dubbi per la strada della Reims potrebbe essere un ostacolo al trasloco del servizio da Fabriano a Fossombrone operato il vigile urbano siamo a Pesaro Vallefoglio operato il vigile urbano travolto giovane arrestato oggi c'è l'udienza sciocca Montecchio il comandante Galdenzi parla di una riabilitazione che sarà per il vigile molto lunga polveri sottili da domani tornano i divieti per i mezzi euro zero nel perimetro tra il Foglia la ferrovia e il mare percorribili le vie che portano al curvone chi parcheggia può noleggiare gratis una bicicletta siamo chiaramente sulle pagine di Pesaro e il porto il porto si ferma per l'ultimo saluto a Capo oggi i funerali di Massimiliano Capanna alle ore 17 alla chiesa di Santa Maria attesi tifosi da tutta Italia anche gli ultra del Fano i giocatori della sua amata Vis Pesaro queste sono le fotografie di alcuni momenti con questo giovane appunto che in giro per l'Italia a seguire la sua amata Vis Pesaro e Cristo Re la chiesa di Cristo Re gremita anche per il farmacista Giuseppe Astuti in tanti ai funerali dell'uomo morto dopo l'investimento stradale ci fermiamo qui grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa ci rivediamo questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti